Chat CPT è uno strumento potentissimo, ormai questo l'abbiamo capito, è chiarissimo e qui sopra ne sto parlando anche da parecchio tempo, ma può essere potenziato un pochino. Io sono Raffaele Gato e ti do il benvenuto. Oltre 15 anni di esperienza come imprenditore nel digitale, qui sopra aiuto le persone e le aziende a far crescere il loro business e il loro mindset. Se ti interessano questi argomenti, seguimi su YouTube e su Instagram per altri contenuti. Quando cerco questi contenuti online mi becco sempre solo video che fanno vedere come installare le estensioni Chrome per avere i prompt precompilati. Ce ne sono tantissime di queste estensioni, a me non piace utilizzarle perché mi piace crearmi i prompt manualmente e quindi questi video sono stra abusati, stranoti e queste estensioni ormai le conosciamo tutti quanti. In questo episodio invece ho raccolto 5 siti e estensioni, perché non sono solo estensioni per Chrome, che vi permettono di utilizzare CiaGPT in maniera un po' più potente, quindi con dei piccoli accorgimenti e che io uso quotidianamente perché mi aiutano tantissimo anche nell'utilizzo che ne sto facendo io. Passiamo al computer e vi faccio vedere cosa sono e come utilizzarli. Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere, che è fondamentale, è che CiaGPT ha una limitazione in termini di quanto può prendere come testo ed input. In realtà è il testo in input e anche il testo in output. Questa cosa tecnicamente si chiamano i tokens, non gli potete dare un testo infinito. Qua c'è anche un articolo, diciamo, super dettagliato su cosa sono i token, come si calcolano, perché non corrispondono esattamente alle parole, diciamo. Quindi più o meno possiamo sapere quante parole sono, però se vogliamo sapere esattamente se il testo che gli vogliamo dare in input o meno è corretto per CiaGPT, abbiamo questo strumentino che si chiama Tokenizer e questo è ufficiale di CiaGPT. Vi lascio tutti i link in descrizione, non vi preoccupate. Tokenizer ci dice che più o meno, diciamo, un token è più o meno 4 messaggi, 4 caratteri. Quindi diciamo, se abbiamo usato 100 token, più o meno abbiamo messo 75 parole. E sappiate che CiaGPT ha come limitazione quella di prendere massimo 4000 token, ok? Quindi come facciamo a sapere se il testo che gli vogliamo dare in input è troppo grande o meno? Possiamo utilizzare questo strumento ufficiale che si chiama Tokenizer. Vi faccio vedere. Prendo un pezzo, prendo un articolo dal mio blog, questo qui. Allora, sui trend del 2023. Mi copio e incollo il testo. Vedete, è abbastanza lunghetto. L'ho preso apposta molto lungo. Lo copio, lo incollo qua dentro, dentro Tokenizer. E mi dice che è 3600 token. Quindi diciamo, significa che siamo dentro questo limite dei 4000. Però siccome ho detto che 4000 è l'input più l'output, quindi anche la risposta, in realtà come vedremo adesso questo testo non riusciamo a utilizzarlo. Andiamo qui dentro e diciamo a CiaGPT di, per esempio, tradurlo in inglese. Traduci questo testo in inglese e glielo incollo. Quindi il testo se l'è preso in input perché il totale è meno di 4000. Però 4000 è tutto l'input più tutto l'output. Ripeto, questa è una limitazione che ha CiaGPT nella sua versione con GPT3. In GPT4 questo limite è stato fatto più grande, quindi può gestire molto più testo. Comunque non è infinito. Ne può gestire molto di più perché ha molti più token. Però lo strumento rimane comunque utile. Quindi venire qua a fare il calcolo può essere utile anche, diciamo, se utilizzate GPT4. Come vedete, ha iniziato a fare la traduzione, ma si è interrotto. Vediamo dove si è interrotto. Sostenibilità, trasparenza, inclusività. Vediamo dov'è qua nell'articolo. Ecco qua. Vedete, si è interrotto qua. Quindi tutta quest'altra parte del testo non è riuscito a tradurlo. Ovviamente noi possiamo continuare, possiamo dire a CiaGPT di continuare, eccetera, eccetera. Però il primo strumento che voglio far vedere è questo qui, tokenizer. Ricordatevi, il limite di 4.000 è quello che scriviamo noi più quello che ci deve dare lui. Quindi se qua dentro mettiamo un testo più grande di 4.000, fatemi cancellare questo. Adesso ne prendiamo uno molto molto lungo. Ho preso questo che è dal blog di HubSpot. Allora mi copio questo articolone, che è una guida infinita sul branding. Allora vado qua, copio, torno dentro CiaGPT e gli dico, traduci questo testo in italiano. E incollo adesso questo testo gigante. Ah no, aspettate, prima lo misuriamo, mi sono dimenticato di misurarlo. Mettiamolo qua. 9.200 token, ok? Quindi è molto sopra i 4.000 di CiaGPT, quindi ci dovrebbe dare errore. Vediamo se riusciamo a farglielo tradurre. E infatti ci dice di no. Ci dice, mi dispiace, è troppo grande, non riesco a gestire questa cosa. Con GPT4 riusciamo a farlo, perché la limitazione è stata aumentata, però comunque c'è una limitazione sui token. Quindi questo qui è uno strumento che vi consiglio di mettervi nei preferiti, perché è super utile. Il secondo qual è? Il secondo strumento che vi voglio far vedere è collegato al primo. Perché, ok, abbiamo questa limitazione, ma come possiamo superarla? Possiamo utilizzare uno strumentino che si chiama CiaGPT Splitter, che fa esattamente questo, no? Ci suddivide, ci spezzetta il contenuto. Quindi se ne prendiamo lo stesso contenuto che abbiamo copiato da qua, beh, ce l'ho ancora incollato, quindi dovrebbe funzionare. Vado in CiaGPT Splitter, vedete che gli potete pure caricare un file, questa è una cosa interessante. Quindi magari avete un, che ne so, un documento Word, dove dentro avete scritto una cosa molto molto lunga, potete caricarla qua. Oppure gli incordiamo il testo qua sopra. Quindi fatemi togliere questa roba dalla fine. E lui fa in automatico, vedete qua cosa fa, vi faccio vedere questo pezzo, ve lo allarga. Lui crea un prompt dove dice a CiaGPT, guarda che adesso ti do un input a pezzettini. Quindi do un pezzo, un pezzo, un pezzo, un pezzo e tu elaboralo, ok? Cosa succede utilizzando CiaGPT Splitter? Facciamo process, ci crea i vari pezzi che dobbiamo copiare e incollare. Quindi ci ha preso quella roba là e ce l'ha separato, in questo caso in quattro pezzi. Uno, due, tre e quattro. Quindi noi dovremmo fare copia dell'uno e lo andiamo a mettere dentro CiaGPT. Poi gli diamo copia del due, copia del tre, copia del quattro, eccetera, eccetera. Ovviamente in questo caso ci ha fatto quattro pezzi in base alla lunghezza del documento e alla lunghezza che gli abbiamo dato qua, ok? Però possono essere di più o possono essere di meno. Quindi il secondo strumento è CiaGPT Splitter. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Che vi permette di spezzettare un grosso input e darlo in passo a CiaGPT senza fargli fare nessun errore. Il terzo link che vi voglio far vedere è CiaGPT for Work. Questo l'ho già accennato qua sul canale YouTube, l'ho fatto vedere pure in un altro video. Dove parlavo di tutti gli strumenti, vari app, diciamo, siti, eccetera, eccetera, che vengono utilizzate per l'intelligenza artificiale. CiaGPT for Work che cos'è? È un'estensione di Chrome che ci aggiunge CiaGPT a Google Sheet e a Google Doc. Quindi dentro i fogli di Google e dentro i documenti di Google. E ci fa fare una serie di funzionalità utili. Cioè possiamo utilizzare delle formule avanzate dentro le celle dei nostri documenti, come si vede qua dall'anteprima. E possiamo lavorare dentro un documento Google. Quindi possiamo prendere tutte le funzioni di CiaGPT e averle in automatico dentro un documento Google. Ovviamente appena uscirà l'AI di Google è sicuro al 100% che avremo l'integrazione di BARD all'interno di Google Doc. Quindi probabilmente questa roba, diciamo, è presto superata. Però in questa fase vi può essere utile integrarlo con Google Doc se lo utilizzate come strumento. Il quarto che vi voglio far vedere invece si chiama YouTube Summary. YouTube Summary, anche questa è un'estensione per Chrome, che cosa fa? Vi fa i riassunti in automatico dei video di YouTube. Diciamo, vi lascio il link se lo volete installare, io ce l'ho già installato. Prendiamo, ho aperto un video per esempio, per farvi vedere. Questo è uno degli ultimi vlog di Gary Vee. Come vedete su YouTube si aggiunge questo pezzettino qua in alto a destra. Lo vedete? Dove c'è scritto Transcript and Summary. Se io apro questo menu, qua mi trovo questo pulsantino. E questo pulsantino mi fa in automatico la, diciamo, il riassunto del video YouTube. Quindi vedete, mi copia e incolla direttamente il transcript qua e mi tira fuori il riassunto. E quindi c'ho 5 righe che mi hanno riassunto questo video. Questo era un video di quanti minuti? 6 minuti. Vabbè, non era lungo. Però immaginate sul video magari di 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, un'ora e così via. Può essere molto molto utile. Vi faccio vedere l'ultima. Anche questa è un'estensione per Chrome. Che si chiama CRGPT Chrome Extension. Questa è molto molto semplice. Ce ne sono varie versioni. Però diciamo, questa mi piace perché è molto semplice. Diciamo, è senza molte pretese e così via. Quando lo installate, cosa fa? Vi aggiunge questo pulsantino verde qui in alto. Lo vedete? Che vi permette di aprire CRGPT in qualsiasi pagina vi trovate. E questo è molto comodo perché a volte magari non volete aprire CRGPT in un'altra scheda. Io lo faccio perché c'ho due schermi. Quindi metto sullo schermo sempre CRGPT aperto. Immaginate che state dal portatile, da uno schermo piccolo e così via. Vi basta un click e vi trovate sempre aperto lì sulla destra una piccola finestrina di CRGPT. E questo funziona su qualsiasi sito. Quindi immaginate che siete, che ne so, su Twitter e volete fare un tweet su... Non lo so, sulla leadership. Dammi un'idea per un tweet sulla leadership. La prima cosa che mi è venuta in mente. Ovviamente potete utilizzarlo dove volete voi. Ci dà il tweet, copio, incollo e lo butto qua dentro. Ok? Quindi abbiamo sempre al volo le informazioni. Questo è molto molto comodo, soprattutto se dovete fare dei copia e incolla veloci all'interno di altri siti. Dentro un social, dentro un documento, dentro una chat e così via. Quindi con questo qui, che si chiama CRGPT Chrome Extension, vi trovate CRGPT a portata di click in qualsiasi schermata vi trovate. Come avete visto, erano un po' meno noti del solito questi qua. E soprattutto non erano le solite estensioni che ti fanno precompilare i prompt oppure che ti danno le liste di centinaia di prompt da utilizzare. Quindi se smanettate con CRGPT, sono sicuro che questi 5 siti barra estensioni per Chrome vi aiuteranno nel vostro lavoro. E se siete all'inizio di CRGPT e volete utilizzarlo un pochino meglio, attenzione a degli errori frequenti che vengono fatti e che poi abbassano la qualità dell'output che vi dà CRGPT. Recuperatevi questo video sul mio canale YouTube dove vi faccio vedere esattamente gli errori da non commettere e come potenziare l'utilizzo di CRGPT.